ciao a tutti metal detector valerio e oggi faccio l'insalata con mais e tonno siete pronti cominciamo siamo un po di insalata mi piace sto cucchiaio tutto bucherellato davatevi sempre le mani prima ok un po di misticanza basta così ora aiuta una sciacquata con l'acqua in mezzo mettiamo l'acqua poi sarebbe lavarla col bicarbonato sarebbe meglio leviamo l'acqua e passiamo a mettere l'altra roba mais buono leviamo l'acqua che c'è dentro ok acqua levata mettiamo il mais non tutto va ok vabbè ce l'ho messo tutto non l'ho mai niente vai perfetto ora scatoletta di tonno leviamo pure st'olio questo oliaccio perfetto mettiamo il tonno mettiamo il tonno una bella pulita per bene ok ok fancule questa è una fatica di oliva poi mettiamoci olio d'oliva ok poco 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 non c'avevo l'aceto normale quindi ci metto aceto di mele non so se va bene ecco basta ce ne metto poco adesso ci metto sale di lima laglia un po' basta un po' basta ok ecco qua l'insalata bella girata è pure un po' cascata è pure un po' cascata detektor alerio un po' cascata che è un po' cascata è un po' cascata